Annata terribile per l'agricoltura padovana. La perdurante crisi idrica che ha colpito il territorio ha causato danni stimati da parte della CIA in almeno 300 milioni di euro. Nel Città dell'Ese e nel Campo San Pierese la resa del mais ha toccato quota meno 90% rispetto al 2021 mentre nella bassa e nei colli è meno 70%. Giù pure la soia si stima una perdita del 60% tanto nella bassa che nell'alta padovana e la produzione di olive degli uganei è in flessione del 50%. I vigneti della bassa e dei colli scontano fino a un meno 30% di produzione. Gli ortaggi hanno subito perdite tra il 10 e il 20%. In totale il valore delle minori rese si aggira sui 300 milioni puntualizzaci a Padova e il calcolo è eseguito al ribasso. Al fine di ristorare almeno in parte le aziende agricole colpite da tale calamità il governo ha messo a disposizione la dotazione finanziaria Fondo di Solidarità Nazionale Interventi Indenizzatori per un importo complessivo a livello nazionale di 200 milioni di euro per l'anno in corso. Di questi 40 milioni di euro sono riservati agli anticipi proprio in una logica di intervento immediato. CIA stima che in provincia di Padova giungeranno circa 5 milioni di euro a fondo perduto.